In questa puntata, approvata la variazione di bilancio da 1,7 milioni. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza, con voto contrario, del Movimento 5 Stelle e Forza Italia e astenzione di Fratelli d'Italia, l'ottava variazione del bilancio di previsione finanziaria del Consiglio regionale per il triennio 2023-2025, che registra un avanzo di 1,7 milioni. La variazione in questo momento prevede la semplice allocazione delle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione 2022 su un cosiddetto fondo leggi di parte corrente e di parte in conto capitale. La priorità che l'ufficio di presidenza si è data è quella di offrire un proprio contributo consistente a favore delle comunità colpite dall'alluvione. Ne studieremo poi insieme le modalità, ma certamente questa rappresenta una priorità per tutti. Ci dispiace che qualcuno abbia preferito strumentalizzare questo passaggio, facendo passare un messaggio assolutamente non vero, cioè quello che non fosse una priorità per tutto l'ufficio di presidenza. Fare questa variazione vuol dire esattamente poter spendere soldi nella finalità, nella modalità che ho detto. Votare contro questo atto vuol dire non mettere le risorse a disposizione. Se una formulazione perché possano andare a questa emergenza che ha colpito la Toscana ci potesse essere, è giusto che vadano in questo modo. Purtroppo la gestione della variazione del bilancio del Consiglio regionale, e si è visto anche dal dibattito e dalla discussione aspera che c'è stato, è sempre più una spartizione di quote, di cifre, che viene presenti all'ufficio di presidenza, dove sono presenti tutti, persino il monocellulare Forza Italia, tranne il Movimento 5 Stelle, che da dieci anni viene tenuto, sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, fuori dall'ufficio di presidenza, dove avvengono anche queste spartizioni. La nostra contrarietà quindi sta fondamentalmente in questo merito. Saremo ben contenti di votare a favore se troveranno il modo di mandare interamente quel denaro ai colpiti dall'alluvione. Però naturalmente va fatta una considerazione generale anche per quanto riguarda quella che è la variazione di bilancio che stiamo per fare adesso. Abbiamo fatto un voto d'astenzione in attesa della vera discussione che ci sarà nelle prossime settimane, ovvero a che cosa destinare 1.700.000 euro di avanzo del Consiglio regionale. Fratelli d'Italia su questa l'idea è molto chiare. Noi pensiamo che essendo una cifra in avanzo, cioè quello che è avanzato rispetto alle funzioni del Consiglio regionale, debba essere destinata per l'intero a sostegno, ad alleviare le sofferenze delle popolazioni, delle famiglie, delle imprese colpite dagli eventi calamitosi di inizio novembre. È una vicenda epocale, paragonabile purtroppo, probabilmente soltanto all'alluvione di Firenze negli anni 60. Rispetto a questo ci vuole una iniziativa straordinaria. Quindi al Consiglio regionale è avanzato 1.700.000 euro rispetto ai soldi che avrebbe potuto spendere. Per questo oggi si destinino tutti a alleviare le sofferenze delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'inizio novembre. La polemica di oggi è sicuramente strumentale. Noi dobbiamo solamente allocare le risorse e si spenderle in conto capitale o in parte corrente. La decisione avverrà con una legge che deve avvenire nelle prossime settimane ed è evidente che le risorse verranno destinate a favore di quelle popolazioni e soprattutto dei comuni. Noi abbiamo una competenza specifica, possiamo relazionarci con i comuni. Saranno loro poi a definire come utilizzare quelle risorse. Quello che noi e la Toscana in particolar modo deve chiedere è il Governo di non rinviare più le risorse, di inviarle in Toscana. I danni sono altissimi, si parla di miliardi, non più di milioni. E come tale il Governo non può voltarsi dall'altra parte, ma deve assumersi le proprie responsabilità. La Toscana per quello che può, Consiglio regionale e Giunta regionale lo sta facendo. Si sottintende ovviamente la questione di come destinare l'avanzo ed è per questo che noi siamo ancora in attesa perché è vero che dobbiamo assolutamente ricordare le straci nazifasciste dando adeguate risorse, ma oggi ci viene nel cuore l'esigenza della priorità delle spese per gli alluvionati. Quello che ha subito la regione Toscana merita una risposta immediata. Quindi per il momento ci siamo collocati in una posizione di attesa per vedere cosa concretamente si potrà fare nelle prossime settimane negli uffici di Presidenza. Dobbiamo trovare una soluzione che possa davvero tenere conto delle varie esigenze. Questo è successo in Consiglio regionale, ma oggi è soltanto una tappa di un percorso che dovrà essere compiuto nelle prossime settimane. Abbiamo un tesoretto da 1.700.000 euro per Forza Italia, unica forza politica ha sostenuto questa tesi in Consiglio regionale. Quell'avanzo di amministrazione deve andare completamente alle famiglie, alle imprese, a coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 2 di novembre. È stato per la nostra regione un disastro, un tessuto economico in crisi, 4 miliardi di danni, ancora molte famiglie fuori casa, ci sono famiglie che non hanno più niente. Noi diciamo che quel tesoretto lì deve andare agli alluvionati, il centro-sinistra ci continua a dire no, di quel tesoretto lì soltanto 1.200.000 euro deve andare agli alluvionati e 500.000 euro, 400.000 euro devono andare per la ricorrenza degli 80 anni della liberazione dal nazifascismo. Noi pensiamo che quella ricorrenza lì, per quanto riguarda Forza Italia, per quanto riguarda il sottoscritto, che ha sempre partecipato al 25 aprile, all'8 d'agosto, alle liberazioni, a tutte le liberazioni che è andata a Sant'Anna e Stazema, sia essenziale ricordarlo. Ma questo è un momento difficile, è un momento dove le imprese hanno perso tutto, 4 miliardi di euro di danni in Toscana e noi si mette mezzo milione su una ricorrenza, che è seppur importante ma che in questo momento, per quanto ci riguarda, doveva essere considerata in maniera diversa. Fra l'altro abbiamo anche detto un'altra cosa. Mettiamo tutto l'avanzo di amministrazione lì e usiamo i 300.000 euro della festa della Toscana del prossimo anno, quest'anno è intitolata a Don Milani, il prossimo anno intitoliamola agli 80 anni della ricorrenza. Abbiamo 300.000 euro già nel bilancio previsionale, del prossimo anno usiamo quei soldi lì per la ricorrenza. Il centro-sinistra non solo fugge dalla discussione, ma sceglie di non aiutare le imprese, le famiglie e coloro che sono stati colpiti dall'alluvione. Per noi questa è una pura follia, ci sembra una cosa assurda, non lamentiamoci poi che i cittadini non vanno a votare. Ma dispiace aver ascoltato un intervento tanto demagogico su una questione seria e che attiene ai danni dell'alluvione e alla sofferenza delle persone. Oggi non era in votazione la destinazione di quell'avanzo di un milione e sette, ma era in votazione l'accertamento dell'avanzo e la destinazione, così come è previsto da parametri di legge, di un milione e tre per spese di investimento e 400.000 euro per quanto riguarda spese correnti. Ora aspetterà all'ufficio di presidenza decidere come destinare questo avanzo di amministrazione. Se tutti avessero votato come ha fatto il gruppo di Forza Italia, vale a dire contrario alla variazione di bilancio, neanche un euro di quell'avanzo domani potrebbe essere destinato ai danni dell'alluvione. Neanche le altre opposizioni hanno seguito il gruppo di Forza Italia, perché hanno avuto il pudore o di astenersi o di non partecipare al voto. Quindi rivendichiamo con forza il fatto concreto che l'ufficio di presidenza potrà discutere come destinare queste risorse e ovviamente moltissime di queste a risarcire danni dell'alluvione grazie al voto della sola maggioranza. Un minuto di rumore del Consiglio regionale per ricordare Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa dal fidanzato, e per le altre donne vittime di femminicidio. E al centro dell'aula, sopra la bandiera del Pegaso, un paio di scarpe rosse. E ancora il Palazzo Illuminato di Rosso fino a sabato 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono le iniziative simboliche attraverso le quali il Consiglio regionale della Toscana ha voluto testimoniare la ferma condanna delle violenze e dei femminicidi, i cui numeri continuano a crescere tragicamente e la solidarietà ai familiari delle vittime. Ho chiesto un minuto di raccoglimento dopo aver letto una delle frasi che è stata letta dalla sorella di Giulia Cecchin e che parla del patriarcato. Perché è una riflessione che ciascuno di noi può e deve fare. Perché ci possono essere mille leggi, decreti, si possono inasprire le pene, ma nulla sostituirà una cultura del rispetto della persona che è indispensabile e che senza la quale non ci può essere nessuna legge e nessuna costrizione che possa insegnare alle persone, agli uomini, ma vale per tutti quanti, il rispetto del prossimo. Il femminicidio è un delitto orribile perché è contrario all'umanità. E soprattutto la cosa più terribile è che è il frutto malato di una società che, come è stato detto, non deve vedere in queste persone dei mostri, delle persone che sono isolate, che quindi in qualche modo vanno contenute. Perché, lo ripeto ancora, ciò che avviene, lo stalking, i maltrattamenti delle donne, è il frutto malato di una società che non riesce a considerare le due metà del cielo equidistanti e soprattutto alla pari. Quindi dobbiamo fare uno sforzo ciascuno di noi come istituzioni, ma anche come singoli. La violenza sulle donne, la violenza domestica è sicuramente un fenomeno ancora troppo largo. Anche se abbiamo proposte di legge, obiettivamente il problema è un problema culturale, di informazione, di preparazione alle nuove generazioni femminili, ma direi non solo femminili. Io credo che dovremmo ripartire anche da una cultura sul genere maschile, il genere maschile che deve ritrovare un suo ruolo, deve abituarsi a una compagna che è diversa da quella di un tempo. Quindi il problema è un problema obiettivamente culturale. Io, nella mia esperienza, essendo un medico di pronto soccorso, sono stata spesso a contatto di quelli che sono i maltrattamenti domestici. Io ho conosciuto donne che per un pugno hanno avuto la mandibola rotta, donne che per uno strattone hanno avuto il polso rotto. E devo dire la verità che molto spesso, specie se si parla di località più piccole, magari più che l'abuso e per fortuna più che il femminicidio, quello che succede più frequentemente è il maltrattamento. Io oserei dire che il problema comincia da lì. Quindi intanto riconosciamo i segni di chi sta accanto a noi. E quando un uomo si accorge di avere una rabbia intensa verso quella che è la propria compagna e le sue abitudini, deve sapere che ci sono dei centri per gli uomini maltrattanti, in cui si impara, dove gli uomini possano imparare, a gestire in maniera diversa la loro rabbia. Indubbiamente siamo di fronte a un tema che è assolutamente legato alla cultura di oggi. Ci sono diversi ambiti, secondo me, dove si forma quella che è la cultura del rispetto, anche nei confronti delle figure femminili. La famiglia sicuramente è un caposaldo, su cui oggi, onestamente, quando sento parlare di rimettere in discussione il patriarcato, ho qualche dubbio, perché molto spesso quella famiglia arcaica, quella famiglia che rappresentava dei valori, delle tradizioni, che oggi appunto viene liquidato con la nozione di semplice patriarcato, un tempo rappresentava forse un nucleo di valori, un nucleo di principi che forse si sono persi nel tempo e che forse oggi credo dovremmo recuperare, anziché, come dire, andare a trovare un capo ispiratorio, ripeto, non rendendoci conto invece che lo sfaldamento anche della famiglia ha contribuito anche a sfaldare certi valori e centi punti di riferimento. Uno degli appuntamenti clou della stagione musicale 2023-2024 della rassegna La Voce di Ogni Strumento andrà in scena venerdì 15 marzo al Teatro Moderno di Grosseto e sarà Pierino Il Lupo. Beh, noi come famiglia, perché chiaramente con l'associazione Festa di Sole contribuiamo e soprattutto beneficiamo dell'iniziativa, Gloria e Agimus sono dei partner costanti delle nostre iniziative di raccolta fondi che sono tutte finalizzate a favore della ricerca del Maier e in questo caso questo è un evento davvero importante per Grosseto e per la partecipazione ma anche per il risultato che darà a favore del sostegno della ricerca e quindi dobbiamo semplicemente essere grati di questa iniziativa di tutti quelli che hanno aderito a partire dall'orchestra, Fresi e tutta l'associazione che hanno voluto fortemente questa iniziativa. Beh, intanto è una favola è diretta da un direttore moderno e divertentissimo che è un competentissimo cartone animato Enrico Melozzi, un straordinario musicista ma è anche un personaggio straordinario. Pierino Il Lupo è una favola che è assolutamente moderna è ancora attualissima e raccontare come la musica può raccontare tutti i personaggi e tutte le sensazioni dei personaggi è straordinario insomma. Beh sì, è un fine solidale molto bello che da un lato consente di poter raccogliere dei fondi per portare avanti le attività istituzionali e innovative del nostro ospedale dall'altro il fatto che si coniughi insieme alla solidarietà la cultura è molto bella è un connubio a cui noi teniamo particolarmente anche all'interno dell'ospedale perché accanto alla cura, alla ricerca scientifica come fondazione mai garantiamo tante attività anche culturali e teatrali di intrattenimento e accoglienza per i bambini quindi questa è un po' una sintesi perfetta cultura e solidarietà nel nome della salute e dell'aiuto per i bambini. Grazie a tutti